attenzione 300, 800, 1400 300 1400, 1400, è una corsa tra lui e lui perché lui ha detto 1400, 1400, diamola tutti e due via adesso da questa parte, vediamo un po' se da questa parte quando il dottore parla di glicemia ciclisti nelle loro performance attive il giro d'Italia è quindi la terza volta che arriva all'aceno molto gradito l'incontro ragazzi, fatemi un applauso, è la prima volta che bravi, tutti interessanti insomma voglio provare un'esterno, questo è giusto fatti provare un attimo, ne trovo una che non la sanno allora, 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 adesso è una guerra alla grande, dopo quanto tempo da metti una sigaretta che fa malfumare chi è che si fa malfumare, ragazzi, per cortesia allora, attenzione, dopo quanto tempo da metti una sigaretta